allora bentornati amici di piano sequenza anche oggi un altro speciale in attesa che riprendo riprendo presto a fare le analisi del film un ospite valerio fluido celentano e sono volato addirittura new york per parlare di musica e cinema benvenuto anzi buongiorno valerio perché per te sono le 13 è proprio è proprio così noi coi fusi orari andiamo sempre un pochino in difficoltà non so mai che giorno è quindi buon martedì a tutti buon martedì e poi lo spiegheremo mi sono un po strano ti devo confessare essere io per una volta a ospitarti non viceversa permettetemi una breve presentazione di valerio valerio un musicista napoletano che poco più di dici anni fa ha deciso di andare a confrontarsi con una realtà molto più grande molto più bassa con gli stati uniti d'america e sta facendo il suo percorso a una sua rock band heavy metal band prime proversi corretto insomma lui è un musicista a 360 gradi ma un po come me nel cinema la pandemia l'ha costretto a fermarsi e quindi ha avuto più tempo per dedicarsi ai suoi canali youtube che cura molto meglio di me vi lascerò il link in descrizione non pensavo che avrei mai detto questa frase e direi di partire subito valerio ovviamente valerio è un amico musicista e quindi lui avrà un taglio dal suo punto di vista mi interessa anche avere una persona molto più giovane di me che per mia fortuna non è un critico cinematografico perché noi siamo proprio brutti i critici cinematografici a te la parola valerio fist movie e song allora il primo film che ho scelto quando mi hai chiesto di individuare dei momenti musicali nel cinema il primo che mi è venuto in mente distinto senza neanche pensarci è stato ritorno al futuro e quando dico ritorno al futuro intendo la trilogia ovviamente ma la canzone che ho scelto che mi ha subito colpito è stata the power of love nella famosa scena dove all'inizio proprio di ritorno al futuro il primo film marty mcfly fa tardi sono in ritardo per la scuola prende lo skateboard si attacca a un a un track americano e raggiunge la scuola in fretta e furia a parte questa canzone che subito con questi sint è subito perché ti mette in un mood positivo divertente ti dà e ti dà anche e ti dà quello che a me ha impressionato noi siamo dall in quando lo guardiamo dall'italia tutto quello sembra così lontano l'america andare a scuola con con lo skateboard e quindi mi mette subito in un mood positivo e diverso e di e di cultura completamente diversa e quella canzone è parte di quella di quella scena e poi ritornerà anche nel nel film più volte con con richiami anche solamente anche solamente strumentali interessanti questo non è frequente che tu scelga di far risentire una canzone in un film quindi c'è sempre una ragione perché poi casomai in un momento aveva come detto tu no ti doveva dare un'emozione un mood trasmetterti un certo tipo di sensazione in quel caso rilancia proprio l'azione ricordi bene no perché lui si saluta con con se si 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 traina al fuoristrada come chiamato e poi invece torna in altri momenti però tu non lo vedesti al cinema nell 85 quel film quindi l'hai visto ha visto dopo a me è un po po diverso e adesso rischio di di sembrare proprio quel tipo di persona che non sono adesso ad una delle ragioni per cui ci ho messo tanti anni a voler aprire un canale youtube nel senso che quello che poi l'opportunità per tutti cioè avere una platea potenzialmente vastissima per me era un senso di disagio perché il lavoro su un rapporto umano costante di settimana per settimana settimana per settimana proprio per non trasmettere un'idea di sbagliata che molto spesso i critici trasmettono quelle di essere presuntuosi di mettersi sopra al film tutto questo per dirvi la frase che penso per dire rischia di portare in questo modo senso che alla mia età ormai cerco qualcosa di molto diverso non solo perché ho visto tanti film e non vi dico quanti perché sennò sembrerebbe un ostentazione basta vederli perché tu li devi capire devi studiare considera che continuo io a leggere almeno due libri a settimana di cinema lo insegno perché poi conoscerlo non significa saperlo spiegare saperlo raccontare e farlo capire ma non è semplice ma nemmeno tutto questo non serve proprio perché quando raggiungi una certa età cerchi qualcosa di diverso e quindi l'idea di confrontarmi con una persona più giovane mi ha fatto venire in mente ripartiamo dalle origini cioè proprio di quando io ero giovane è la prima quindi vi racconterò qualcosa di personale non necessariamente legato al cinema se no sarebbe molto del cinema nel senso di epocale la prima cosa che verrebbe in mente è l'inizio di Apocalypse Now che è uno degli inizi più folgoranti del cinema con la canzone dei Dolce e invece io parto da molto prima dall'83 quando vi di Il Grande Freddo ed ero un bambino sono stato sempre un bambino molto precoce che si voleva confrontare con quelli più grandi vedo questo film e nonostante avresti dieci anni sento un senso di appartenenza a un film generazionale è il film generazionale copiato da Verdone, compagni di scuola un film che parla proprio dell'amicizia, della riflessione di queste persone sulla vita, sulla loro vita, sul senso di coerenza dei loro ideali se non rispettati o meno insomma mi innamoro talmente tanto di questo film e penso a Perionia, sento un personaggio molto affini a me che è quello interpretato da Kevin Kline anche se paradossalmente Perionia della Sorte sono diventato giornalista e il giornalista che è interpretato da Jeff Corbin lo prendono in giro c'è un momento dove dicono beh, com'è la vita dei giornalisti ad alto livello? a New York e lui risponde beh, noi abbiamo una norma nell'editoriale principale del nostro mondo non scrivere un articolo più lungo di una cagata media e poi dice sono stufo di scrivere articoli che vengono letti in eccessi e proprio Arnold, il personaggio di Kline dice beh, però la gente in passato ha letto Doskoyevsky in eccessi sì, ma non in una cagata sola mi fa ridere questa battuta però se pensiamo a quello che è diventato il mondo del giornalismo che dobbiamo scrivere articoli piccoli, piccoli, piccoli insomma, me la faccio breve, non troppo perché io poi sono lungo e uno di quei film che mi si è riportato su Un'isola del deserto ovvero quei film che tu sai che non ti stancherai mai di vedere però cresco un pochettino e vedo un film vedo addirittura tutta una rassegna personale di un regista che si chiama John Sayles John Sayles è il padre del cinema statunitense del cinema indipendente statunitense è il regista più importante del cinema indipendente quello vero, non quello farlocco della Miramax è il suo primo film, il film del sordo si chiama Return of Secasum Seven il titolo è solo in inglese perché il film è rimasto inedito in Italia fino a qualche anno fa non era presente neanche nei famosi dizionari del cinema è stato recuperato dopo qualche anno ed è praticamente il grande freddo fatto anni prima più piccolo, più compatto, più semplice è anche più povero perché non solo è girato in 16 mm con meno mezzi ed è interessante perché se è più povero si intende anche da un'idea, una messa in scena proprio quello che diceva prima Valerio su Ritorno al Futuro come noi vediamo questo mondo bellissimo americano se vi pensate c'è una scena nel grande freddo dove loro devono sparecchiare hanno appena fatto la cena funebre in onore del loro amico noi quando sparecchiamo a casa è più una rottura di scatola invece lì parte la musica, il balletti eccetera è un momento, diventa patinato, glamour ecco questo non c'è in John Sayles però se da una parte c'è qualcosa che manca appunto un'idea nel grande freddo più sobria della rappresentazione della vita da un'altra c'è una parte che è importante cioè la presenza di un comparto musicale estremamente ricco per scelta e per significati e arriviamo appunto alla mia canzone che è chiaramente quella dei Rolling Stones che è nel corteo funebre delle Rolling Stones in realtà se uno rivede il film l'omelia funebre che all'epoca è anche crescendo mi ha sempre dato l'impressione di essere più un'invettiva cioè il pastore dice dove è finita la speranza di Alex la speranza perduta poi appunto c'è il ricordo di Harold e subito dopo parte la musica diegetica cioè all'interno della nazione cinematografica di una delle sue amiche che suona appunto all'organo la canzone dei Rolling Stones escono dalla chiesa e la musica diegetica cioè all'interno del racconto diventa extra diegetica con la musica invece con la canzone di Mick Jagger e Kate Richard quindi abbiamo una situazione già molto raffinata da un punto di vista cinematografico perché si passa dal diegetico all'extra diegetico che significa anche che nella finzione cinematografica quella canzone esiste ma senza testo nella versione cinematografica per il pubblico cioè nelle emozioni che deve trasmettere esiste ma con il testo quando un regista, in questo caso un regista anche sceneggiatore decide di cedere le sue parole a un cantante ricordiamo che la canzone dei Rolling Stones è del 65 mi sembra o se 68 controllo però non dell'83 quindi non è stata scritta per il film ha un significato molto importante ed è bellissimo perché sembra proprio particolarmente evocativa e c'è una scena di questo corteo quando loro attraversano tutte queste limusine, queste macchine attraversano un ponte il ponte però non è piano e a collinette eccetera che è proprio la metafora della vita cioè la nascita, la crescita e insomma l'anzianità oppure le difficoltà la vita è fatta di salite, di riscesse, di vittorie e sconfitte e c'è ancora di più un dialogo particolarmente significativo della vedova diciamo di Alex che come sappiamo è interpretata da Kevin Costner poi le scene furono tagliate al montaggio che dice io però volevo andare su una di quelle macchine ecco, noi non possiamo avere tutto nella vita però decidiamo sempre qualcosa che non possiamo avere ed è straordinaria questa è una sequenza meravigliosa di grandissimo impatto ma so che Joe Black mi criticherebbe perché in alta fedeltà altra situazione metacenatografica lui dice che non si può più usare questa canzone perché è diventata troppo sputtanata però io l'ho scelta come una delle mie canzoni a te la parola sono stato lungo perché invece a Valerio concedo due canzoni al posto di una e allora io mi prendo anche la libertà di richiamare perché quando tu mi parli di versione cantata e versione strumentale mi affascinava tantissimo il fatto che The Power of Love è in quel momento soundtrack e quindi lui magari la sta ascoltando con il suo Walkman e quindi è un po' meta l'utilizzo dopodiché si sviluppa che lui va a fare il provino per il ballo della scuola con la sua band e fa la versione strumentale della canzone però in versione più rock e quindi io che mi appassionavo alla musica questa cosa mi divertiva tantissimo e trova tra i giudici proprio l'autore della canzone che è Huey Lewis è The News praticamente proprio lui che dice no ragazzi siete troppo rumorosi you're too darn loud dice in inglese e quindi non li accetta è bellissimo posso farti rompiamo diciamo tanto noi siamo tra diciamo amici la rigidità di una pseudoscaletta però è molto interessante questo caso e te lo chiedo da spettatore ad addetto ai lavori il fatto che giocano molto con queste contraddizioni temporali che dice è troppo moderno ovvero è arrivata troppo amanti e non viene capita ovviamente diventa ancora più ironico perché lo dice l'autore quando poi invece lui influenza la nascita della canzone di Chuck Berry che era troppo moderna poi lo interrompono però Chuck Berry l'ascolta al telefono e gli viene l'intuizione e capita a voi musicisti di arrivare un attimo prima nel momento sbagliato perché poi è facile una delle cose su cui non si sbaglia mai è andare sulle cover le cover sono ormai apprezzate da tutti ma osare qualcosa di nuovo è un rischio è come no lo è molto spesso io ho lavorato con dei produttori qui in America che proprio di regola studiavano l'ultima hit insomma che va che va forte e ne copiavano lo stile e la struttura per provare a far uscire la prossima hit che insomma di principio mi sembra di fare un secondo posto perché se già è uscita Rianna con Umbrella che comunque spezza un pochino il mercato perché cerchi di fare il secondo ombrello diciamo di questa sullo stesso stile perché molto spesso il mercato adesso si rivolge ad un pubblico che è un po' più pigro e preferisce trovarsi comodo sulle cose che già sa che trova già confortevoli e familiari ecco e quindi molto spesso faremo qualcosa di nuovo e non è visto bene nemmeno da chi poi li deve produrre e distribuire due canzoni a Valeria allora la prima che mi viene in mente che mi è venuta in mente subito dopo The Power of Love è The Eye of the Tiger e quindi mi ovviamente parte subito l'idea quando dici The Eye of the Tiger non pensi nemmeno alla band che l'ha scritta ma pensi subito al film e quindi parliamo della saga di Rocky ed è particolare l'ho scelta perché una di quelle canzoni che quando esce ti resta in testa è la prima che quando stai facendo il soundcheck con gli amici e ti stai preparando così qualcuno la accenna e tutti la suonano molto spesso male perché è facile molto spesso è una di quelle canzoni facili da suonare male e resta legata indissolubilmente al film al personaggio di Rocky all'attore Sylvester Stallone per sempre nonostante io non sia mai stato un fan né del pugilato né della saga in se stessa allora pensa come è riuscita a essere trasversale la canzone esattamente infatti poi ti porta anche a fare delle ricerche ma chi è il cantante perché è diventata così famosa in quel periodo e quindi cerchi andando alla ricerca tu scopri che sono i survivor e poi c'era questa come si dice questa leggenda che alleggiava intorno a questa cosa del fratello minore di Sylvester Stallone Frank Stallone che canta nei survivor ma è importante wikipedia ce lo dice ci fidiamo di wikipedia la canzone di Iod of the Tiger non è cantata da Frank Stallone Frank Stallone appare nella traccia 2, 3 e 6 di quella colonna sonora non ricordo i titoli gli amici bellini possono andare a controllare da loro però è importante questa cosa perché non è la voce del fratello minore come molti hanno creduto per tanti anni ma il cantante originale dei survivor dell'epoca terza terza canzone è un film è un regista che mi tra i miei preferiti in assoluto il regista è Quentin Tarantino il film che mi è venuto in mente immediatamente è Kill Bill e resta nella memoria per sempre quel fischio però che il fischio riporta a due a due momenti diversi c'è il fischio che ti dà quell'ansia mentre si stanno per sviluppare vari omicidi e varie situazioni anche scabrose ma mi resta nella mente la band giapponese di quelle si chiamano le 5 6 7 8 ed è una band surf punk rockabilly giapponese che sta in giro da parecchio tempo loro diventano famose grazie al film ma loro suonano da anni e anni e sono rappresentano insomma questa canzone si chiama Wuhu e tu ricordi il tema ovviamente proprio per la semplicità anche del testo e hanno una sonorità vecchia moderna di proposito ma comunque vecchia che riguarda che quasi ricorda proprio le sonorità degli Wuhu e quindi quel tipo di rock and roll così e mi piace ricordare questa cosa che Quentin Tarantino le ascolta in un negozio stava facendo shopping a Tokyo una cosa del genere le ascolta e chiede al commesso proprio chi sono queste le devo assolutamente inserire nel film e non solo le sceglie come colonne sonore ma le inserisce proprio all'interno di una scena dove loro suonano dal vivo nel ristorante una cosa spettacolare due considerazioni poi ti dico il mio secondo momento innanzitutto vi fa piacere che Valerio l'ha chiamato Kill Bill e quindi non ha fatto la marchetta volume 1 volume 2 e la seconda cosa ha citato un momento molto importante perché Tarantino pensò quella sequenza in funzione della della canzone un po' la Sergio Leone e non al contrario quello che viene generalmente in tutti i film i film sia la canzone viene scelta successivamente la musica viene composta dopo che il film è quasi praticamente finito finito Leone pretendeva che Monicone scrivesse la musica prima perché la doveva poi suonare sul set quando giravano e questo significava che le scene avevano proprio il timing esatto della musica e anche l'emozione della musica di Ennio Monicone per questo tra l'altro anche per questo sono così coinvolgenti ecco quella sequenza che in piano sequenza ha fatto una bella bella scelta Valerio è stata pensata da Tarantino proprio in funzione dell'emozione che gli hanno dato quelle musiciste e quindi uno di due casi dove la musica e l'immagine si sposano perfettamente ma perché sono state pensate in quel modo è bellissimo e ho trovato tra l'altro su YouTube la scena completa della canzone suonata dal vivo quindi non riregistrata non ridoppiata dalla canzone in studio del CD quindi senti proprio il suonare dal vivo delle ragazze anche con stonature proprio perché lì stanno performando anche a livello attoriale perché devono pensare più al muoversi all'espressioni facciali che non alla come si dice alla performance canora e musicale infatti non sono tecnicamente eccelse non sono bravissime ma fa parte anche dello stile loro e deve essere così deve essere più è punk è surf punk quindi non ha importanza che la nota sia ben alzata ed intonatissima ma ti deve dare quella cosa la voglia di ballare e c'è una bellissima scena che riguarda solamente la performance musicale è fantastico cresco e quindi vado al liceo e avevo l'abitudine al liceo di segnarmi sui giornali dei programmi tutti i film che sarebbero usciti la settimana successiva per vederli programmarli registrarli scopo che fanno il laureato un film che per ovvie ragioni io non ho potuto vedere al cinema nel 67 i miei genitori ancora non si erano conosciuti figuriamoci si è sposati e io insomma non ero ancora impredicato di nascere e faccio un errore che poi crescendo uno impara a non far più ovvero mi compro lo faccio vedere il libro del laureato no l'errore non è comprarsi il libro del laureato mi leggo il libro del laureato perché appunto ho avuto sempre questa abitudine questa predisposizione di voler leggere i libri da cui sono tratti i film lo leggo e lo finisco la sera prima della trasmissione in tv per avere proprio l'emozione il ricordo più fresco possibile il film vedo il film ed è una delusione incredibile ed è l'errore che si fa soprattutto poi quando non si è del mestiere quello di voler rapportare il film al libro viceversa si dice sempre il libro è più bello sono rimasto deluso non hanno messo questo passaggio narrativo ed è ohiaiaia scusate questo è proprio in diretta i rumori i rumori per una volta sono nonna di New York ma dell'Italia per due ragioni diciamo fu questo errore innanzitutto ero molto molto giovane e cinema e letteratura sono due medium diversi anche se sono due medium entrambi narrativi ovvero entrambi hanno un'istanza narrante che è capace di modificare il tempo e lo spazio e le informazioni diegetiche del racconto questo poi meriterebbe una lezione a parte eccetera ma non è proprio lo spazio e il momento e l'altra forse fu anche portato la giovanità a travisare dei messaggi del film perché all'epoca i televisioni erano in quattro terzi il film è girato in Panavision nel rapporto a spettrazio 2 e 35 quindi era tagliato per quasi la metà il romanzo tra l'altro del 1963 il film del 67 anni dopo mi compro il DVD lo vedo finalmente nel formato giusto panoramico in inglese e lo trovo straordinario lo trovo straordinario anche perché sono cresciuto ho una maggiore consapevolezza cinematografica e poi comunque lo vedo finalmente come è stato girato qual è la canzone scelta? la canzone scelta è il momento scelto sono quella che appunto avete la canzone The Sound of Silence di Paul Simon che è cantata anche da Artgun Funker piccolo momento personale nella vita mi sarebbe piaciuto assistere al concerto il Central Park di Paul Simon e Artgun Funker però poi mi sono tolto lo sfizio di vederli in Italia al concerto della Reunion a Roma molto più adulto non è la stessa cosa non è la stessa suggestione però insomma comunque posso dire di aver visto Paul Simon e Artgun Funker uno degli errori che si è fatto per molti anni prima appunto dell'introduzione dei social dell'internet che si diceva che questa canzone era stata scritta appositamente per il film invece no altre due canzoni sono state scritte per questo film The Sound of Silence è del 64 e andò a successo nel 65 e diventò la hit nel 66 il film ricordiamo nel 66 ed è perché ho scelto questo momento perché ti fa capire gli errori di gioventù e il fatto che mi vedo con una certa ingenuità quando ho detto ero un guaglioncello che capiva poco di cinema perché la letteratura e il cinema hanno un diverso modo di rapportarsi con alcune problematiche come l'economicità nel senso che un romanziere ha possibilità infinite grazie all'economicità perché può raccontare qualunque cosa e basta solo la sua fantasia quella scena quel momento del racconto non ha bisogno di un budget di scenografie di effetti speciali di costumi di comparse nel cinema invece no ogni scena poi tu la devi rapportare alle risorse che hai allo stesso modo però il cinema sfruttando le immagini può avere una capacità di sintesi e anche di potere penetrativo che la letteratura ha in un altro modo ecco l'esempio di quella scena perché è una sorta di falso piano sequenza una falsa carrellata che inizia in piscina con Benjamin che sappiamo interpretato da Dustin Hoffman che si alza e ci mostra quello che è la routine di questo ragazzo che nel romanzo è descritta molto bene ma il web ha avuto bisogno di molte pagine per raccontarlo c'è questa indolenza questa pigrizia questo ragazzo che non ha un obiettivo una meta non ha uno scopo nella vita nonostante si sia graduate e vive queste giornate tutti uguali e questo finto piano sequenza perché i raccordi ci sono in realtà perché lui si mette ci fa in pochissimi minuti capire che stanno passando queste giornate tutte molto simili proprio per inerzia la canzone Sound of Silence rafforza moltissimo le immagini perché altro passo indietro nel 1955 esce Gioventù bruciata in realtà Gioventù bruciata il titolo originale ribelli senza una causa il titolo italiano sarà romantico però è totalmente forviante sembra già tra l'altro contenere un giudizio morale d'altronde oggi noi lo usiamo come espressione sei una gioventù bruciata sono i ribelli senza una causa ovvero quei ragazzi che hanno un malessere interiore c'è incapacità di comunicare con gli adulti c'è anche l'incapacità di essere compresi o forse resi importanti dagli adulti ma questa loro ribellione non è ancora focalizzata incanalata in qualcosa di potente di ideologico di politico come la contestazione studentesca e rimane senza una causa il laureato che è del 67 ecco questi moti di insofferenza stanno per esplodere però Benjamin è un ragazzo che appartiene alla classe dirigente la figlia della classe dirigente alla villa con piscina il padre di regale il duetto dell'alfa romeo quando si graduate laurea che poi è un po' diverso il sistema scolastico anglosassi ma non è il momento di parlare e quindi è una canzone scritta molti anni prima cioè non troppo nel 64 però sono tanti nel cinema che parla di che cosa? parla della incapacità di comunicare della difficoltà di comunicare tra le persone tra le persone e il film il laureato di che cosa ci parla? della incapacità di comunicare perché tra padri e figli tra madri e figli e tra anche gli stessi genitori e quindi è perfetta perché un'altra canzone che sembra scritta appositamente per il film e questa non fu scritta per il film dove le immagini e la musica hanno un senso narrativo ed è talmente potente innovativa che anni dopo Notting Hill utilizza la stessa soluzione narrativa nel passaggio delle stagioni proprio per dirci che sta trascorrendo il tempo ma in chiave diciamo molto meno politica e molto meno evocativa piccola parentesi ultima personale anni dopo ho avuto la fortuna e il piacere di intervistare Girolamonica che è il doppiatore di Dustin Hoffman ed era molto contento a parte della chiacchierata perché lui ha avuto l'onore e la fortuna di pronunciare una delle frasi più celebre della storia del cinema signora Robinson lei sta tentando di sedurmi poi ve la faccio anche ascoltare signora Robinson lei per caso sta cercando di sedurmi questa è una delle frasi famose le tue due Valerio ma sei straordinario allora non posso quando si parla di cinema e musica non citare uno dei miei film preferiti che è The Blues Brothers un altro di quei film che apprezzi in Italia non lo capisci fino in fondo finché non vivi un pochino quello che è l'America l'America un po' tutta perché io sto a New York e dico sempre che New York non è l'America in se stessa perché è una città molto multiculturale anche fin troppo europea ma l'inizio Bruce Brothers è difficile anche sceglierti una canzone è così è così meta ma all'inizio proprio la scena di apertura con la canzone che è She Called Katie che praticamente va perfettamente anche con con le immagini di John Belushi si incastra perfettamente musica ritmo e immagini è straordinaria perché ancora una volta prepara il mood per il film che sarà e c'è un mi rendo conto adesso insomma in tarda età che c'è anche un come si dice un gioco di parole che loro sfruttano spesso è che in Italia quando poi noi andiamo a tradurre a ridoppiare ci perdiamo quando lui dice che cos'è questa e si rivolge alla macchina no perché il fratello lo va a prendere con la macchina della polizia lui si aspetta la Cadillac la Cadi dov'è la Cadi the Caddy in inglese e richiama al Katie She Called Katie del testo della canzone che in realtà si riferisce e l'ho scoperto veramente oggi al al treno che dal Kansas va in Texas quindi praticamente ci sono una serie di sfumature che chi ama il cinema e la musica dovrebbe veramente approfondire per apprezzarle fino al 100% perché veramente ci sono troppe cose che se noi guardiamo i film doppiati da noi bravissimi fino ad un certo periodo storico per quanto mi riguarda ci perdiamo ed è un peccato secondo? sì sono d'accordo anche sul doppiaggio fino a un periodo storico è un mio cavallo di battaglia perso another one one more che poi in realtà ne sarebbero due perché ho difficoltà a scegliere un'altra scelta interessante è stata fatta e viene continuamente fatta dal cinema che ci propone la Marvel Studios insomma tutti questi film sui supereroi che stanno uscendo e che stanno creando un nuovo modo anche di proporre l'intrattenimento al cinema e mi è subito venuto in mente l'utilizzo della musica in il film The Guardian of the Galaxy Guardians of the Galaxy dove praticamente lui ascolta canzoni dell'epoca sempre tramite un Walkman e quindi è molto meta perché quello che sta ascoltando il protagonista è quello che ascoltiamo noi mi piace la canzone insomma Come and Get Your Love del gruppo Redbone che in realtà tutto il mood di quel film ci dà una sensazione di Motown quindi di blues rock funk degli anni 60 e 70 principalmente black principalmente nero in realtà questo gruppo vai a scoprire vai a a ricercare era un gruppo di nativi americani mix tra Messico e nativi americani Redbone richiama anche il nome Redneck con cui vengono apostrofati apostrofati la postproduzione è importante mentre qui c'è proprio la commissione il bone l'ossatura di un certo heritage è il Red quindi dei nativi americani ed è bellissimo però se mi permetti questo è uno ma io faccio un accennino su un altro perché c'ho un tatuaggio qui che si vede non si vede no si vede si vede è il martello è il famoso martello di Thor questa è proprio l'immagine fatta dalla Marvel e mi richiama a una canzone per me ha un significato doppio e triplo perché questo è il martello degli dei citato dai Led Zeppelin nella canzone The Immigrant Song e quindi qui si fa qui si chiude il cerchio con quello che è il mio percorso musicale che nasce con la scoperta delle Led Zeppelin divento un immigrante perché praticamente emigro e divento un immigrante in America il martello significa anche che quando sei martello devi picchiare e quando sei in cudine devi stare e quindi un percorso in cui da Napoli io vengo qui e non mi conosce nessuno e rappresenta perché proprio in quella canzone di Immigrant Song le Zeppelin parlano degli dei insomma di Asgard quindi di questa cultura nord-europea e fanno una bellissima commissione in tutti i film di Thor e quindi nella mitologia dell'epoca è una cosa straordinaria e l'impatto che ha la canzone di Immigrant Song quando Thor recupera i suoi poteri in Ragnarok e va a distruggere poi i suoi nemici è qualche cosa che nel cinema raramente io l'ho visto anche al cinema e il brivido nella sala è palpabile e raramente ho avuto questa forse anche per un fatto di affetto nei confronti della canzone e della band mica male vedi l'età cosa fa appunto prima di dire la mia ultima effettivamente mi sono appena ricordato che ho lasciato in sospeso un diciamo aperto una parentesi Totò dice l'ha aperto la parentesi adesso chiudi la parentesi il fatto che io avessi visto il laureato in televisione in quattro terzi quanto era forbiante e importante rispetto alla versione diciamo in Panavision in 2.35 la scena finale quando loro scappano e salgono sul pulmo l'hanno mandato al monte in matrimonio in quattro terzi praticamente la regia regia tra virgolette in post produzione della televisione italiana ha mostrato quella scena in un autentico campo e contro campo quindi con il volto di Dustin Hoffman e il volto di lei e a seconda di quello che sceglieva dell'espressione che sceglieva ovviamente ti dava un senso del film di gioia di soddisfazione in realtà invece Mike Nichols la gira in piano totale e quindi sono ripesi entrambi nel fotogramma nella scena e vi accorgerete riguardandolo che è totalmente diverso invece così perché sono due persone che hanno fatto una bravata e quindi inizialmente sono un po' soddisfatti poi incominciano veramente a rifletterci a mettere in dubbio il senso della loro azione e di nuovo c'è il tema della mancanza di comunicazione tra due persone e di appunto di persone che ancora non sono ribelli con una causa e si esposa alla scena che ho scelto io proprio perché quella scena oltre che essere stilisticamente molto economica perché racchiude in poco tempo un arco temporale ampio ma è anche significativa perché è proprio il cuore del film il laureato è un film infatti sulla mancanza ancora di comunicazione di queste di questa generazione oltre altre cose allora cresco vado all'università e nel 1994 incrocio nella mia vita Wong Kar Wai ed è veramente quello che è stato poi il passaggio definitivo alla alla mia maturità chiaramente sempre in diverine però diciamo da quel momento diciamo il mio cinema si è aperto a tutto il mondo perché il mio cinema era l'Italia chiaramente tutto il cinema anglosassone quello spagnolo mi adoro francese il mio amato Truffaut l'Oriente era principalmente Kurosawa invece conosco Wong Kar Wai e capisco che il cinema è tutto cioè da quello cinese a quello vietnamita a quello medio orientale ed è un regista che adorai tra l'altro il 1994 è un anno particolare perché in Italia si dibatteva chi meritava di vincere l'Oscar tra Pulp Fiction e Forrest Gump e io avevo scoperto Wong Kar Wai tra l'altro parentesi personale io avevo il post originale di Pulp Fiction nel garage di mia nonna e sfottevo e ho detto nonna vale più il poster di Pulp Fiction che la macchina che la panda che aveva mia nonna il film in questione è Hong Kong Express del 1994 la canzone è California Dream che però non è presente in un momento del film ma in più momenti del film allora è doveroso fare un commento indietro come spesso mi capita per contestualizzare il film Hong Kong Express nasce da quasi un fallimento Wong Kar Wai sta girando il suo film più impegnativo da un punto di vista produttivo economico della presenza di comparse costume di scene molto coreografate di lotte che si chiama Age of Time le ceneri del tempo se non che a metà lavorazione si accorgono che l'audio di questo film non c'è ha parecchi problemi quindi si rischia di andare in carte con un fallimento totale lo tranquillizzano perché forse dall'America può arrivare una macchina che può ripristinare la e quindi piuttosto che stare con le mani in mano decide di girare un film come una sorta di film terapeutico di cura girò un film che fosse diametralmente opposto quindi contemporaneo senza tante persone quindi senza costumi perché passavano i vestiti dell'epoca e molto più easy più aperto addirittura la leggenda voleva che scrivesse le scene di notte le consegnasse la mattina agli attori un po' come Truffò il mio amato Truffò e l'idea era di girare un film episodi con tre protagonisti una donna criminale un poliziotto un'ex attrice ormai in declino ispirati a tre grandi classici della storia del cinema Gloria Lola e Frank Costello Faccia d'Angelo poi come spesso capita con Carvai quello che nasceva in un modo è andato in un'altra direzione perché le due storie cioè sono diventate due storie molto diverse da quelle pensate inizialmente e la terza si è sdoppiata in un film con due storie tutto questo per dirvi che apparentemente se uno guarda un Congress Press lo trova un film bellissimo piacevolissimo fluido per citare il soprannome di Valerio Cenentano che è il nostro amico di O è estremamente causale ed è invece falso un film che ho studiato molto perché è un film molto pensato sia sul piano della struttura narrativa e pensato sia sul piano della sperimentazione formale tant'è vero che assistiamo a un continuo sdoppiamento di queste storie e una storia genera il suo esatto opposto e ogni azione genera una sorta di suo doppio imperfetto perché vi dico questo perché è un film pieno di analogie la principale lo sappiamo i Wong Kar Wai sono quella delle lacrime quindi che poi sia una pioggia che siano fluidi vari di nuovo Valerio fluido non è fatto apposta ma alla fine ci parla di quelli che sono i temi fondanti di Wong Kar Wai che è il senso della solitudine l'amore la difficoltà di manifestare i propri sentimenti e il senso di perdita quando questi sentimenti si sono sottratti il tutto ovviamente con questa straordinaria manipolazione del tempo e arriviamo al fatto della mia scelta perché se la prima storia è un noir mascherato dove sullo sfondo si sviluppa una storia d'amore che non è una storia d'amore perché è una storia di perdita questa storia di amore di perdita sembra dare la staffetta al secondo film letteralmente dare la staffetta come capita nell'atletica c'è un momento bellissimo dove le parole dell'agente 223 se ricordo bene il suo codice è identificativo dice nell'istante in cui i nostri colpi si sono toccati si sono sfiorati ecco un lunghissimo brivido come il brivido che provano gli innamorati ma il destino a volte sospensione sei ore dopo si sarebbe innamorata di un altro uomo e proprio in quel momento parte la musica di California Dream e One Car Why usa come dicevo il tempo con tutte le potenzialità della macchina scenotografica perché ad esempio fa ricorso al montaggio frequentativo che non è quando due persone si frequentano che vanno a cena insieme ma è la rappresentazione di scene apparentemente tutti uguali che ti danno l'idea dello scorrere del tempo con la situazione un po' straniante che la canzone è sempre la stessa ma tu capisci che stanno passando le notti in queste notti dove la gente adesso è diventato 663 e un altro va a comprare il cibo in questo chiosco e dove c'è questa donna bellissima innamorata subito dell'attrice che poi è una cantante Fai Wang e vivono questa storia di amore che la storia dell'amore rappresenta un po' la magia secondo me dell'amore ovvero che due persone si devono innamorare nello stesso momento della vita e non in momenti diversi se no è un bel problema uno o due soffre e pensate California Dreaming cioè California Dreaming è una metà perché per ciascuno di noi sogna una California intesa non necessariamente come la California degli Stati Uniti d'America ma come un mondo che è sempre lontano pensate perché la scelta di quella canzone perché è un mondo lontano perché a volte noi non siamo capaci di vedere il bello o l'innamorato che è proprio sotto i nostri occhi ha portato ogni mano è vicino ma California Dreaming diventa anche che sappiamo una canzone di Mamma and Pappos che è scritta del pubblicato nel 65 e io sono vecchio e la musica che ha scoperto Valerio Marvel però mi citele Zeckling ragazzi utilizzate in un film Marvel è il cambio generazionale ci deve stare ci deve stare dicevo è anche una metafora dell'emancipazione femminile cioè di una donna che ha bisogno di fare il suo percorso e non essere diciamo contestualizzato come una neanche cameriera proprio una detta lavoro di un piccolo chiostro tant'è vero perché dicevo un film che genera i suoi posti imperfetti perché poi alla fine lui comprerà il chiostro dove comprava il cibo e lei diventerà la hostess come l'ex fidanzata di lui e questa scena bellissima poi della Tessa vicino a un jukebox è un film straordinario che mi ricordo anni dopo nel 2014 quando vedi Boywood che secondo me è un altro film che ha cambiato la storia del cinema molto sottovalutato in Italia perché c'è una frase del protagonista che si chiama Mason Senior che guarda il suo figlio il suo figlio più grande la sua ex moglie e dice se solo avesse avuto la capacità di aspettarmi perché a volte uomini e donne di nuovo one car one viaggiano a velocità diversa ecco California Dreaming in questo film mi ha fatto scoprire Wong Kar Wai ed è un utilizzo raffinatissimo potentissimo di una canzone scritta tra l'altro in un altro contesto culturale quelli degli Stati Uniti in America e inserita in un contesto come quella di Hong Kong che all'epoca era ancora sotto la bandiera della Gran Bretagna non ancora cinese però sempre una città molto particolare Hong Kong e l'ho trovato meraviglioso questi sono i miei tre momenti che come ho detto prima non sono rappresentati rappresentativi della storia del cinema ma li ho voluti più legare a un percorso di crescita umana legata al cinema che poi ovviamente continua Valerio tu però forse hai una sorta di coda come una scena Marvel più o meno in un altro momento musicale quando resti al cinema oramai questa è una cosa nuova quando si tornerà al cinema qualcuno tende sempre a rimanere in sala in attesa di una extra doppia credit scene la coda è che mi sentivo in colpa non aver scelto nulla di italiano di cinema italiano e chiudendo gli occhi ho cercato di ricordare il film che più ho rivisto volentieri perché molti dei film che mi hanno impressionato io a me piace rivederli 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 fino quasi ad imparare il dialogo è uno dei film che mi impressionò all'epoca anche per gli effetti speciali lo ammetto ero piccolino era Nirvana di Gabriele Salvatores perché l'utilizzo del quasi bianco e nero con dettagli colorati gli occhi di Abbatantuono azzurri insomma per dare quello stacco della realtà con il videogioco un film secondo me all'epoca geniale che quasi si incrocia con Matrix con Blade Runner insomma un bel esperimento all'italiana e cercavo di ricordare la musica di quel film e scavando perché mi piaceva tanto quella musica perché composta per l'occasione da Mauro Pagani e tutta la soundtrack è tutta affascinante ed è molto moderna ed è bello mi faceva piacere in questa coda analizzare insomma non si può fare ma sottolineare il percorso che fa Mauro Pagani che lascia a casa si trasferisce a Milano comincia a suonare nei locali incontra la PFM la premiata Forneria Marconi e fa rock and roll dopodiché dopo un po' di tempo sente l'esigenza di crescere e studia musica mediterranea e si evolve incontra De André e entrambi si ascoltano e sviluppano un discorso cantautorale diverso e poi lo vai a cercare e vedi Mauro Pagani a New York che ti parla di una città che vibra in continuazione che ti ispira che i suoi rumori e mi autocito sono costantemente insomma ispirazione per nuove composizioni ogni tanto Mauro Pagani deve andare a New York per sentirsi ispirato e per comporre e quindi mi piaceva sottolineare questo percorso all'interno del mio inconsapevole e mi rendo conto di avere questa connessione incredibile con Mauro Pagani un compositore straordinario più conosciuto forse ultimamente per le sue colonne sonore che non per il suo percorso proprio nelle band che non va assolutamente sottovalutato beh è una una bella citazione un bel recupero come scena dei titoli di coda è è una chicca però per il nostro appuntamento sul canale piano sequenza ci salutiamo qui poi non è detto che potremmo fare una seconda parte però non finisce qui diciamo l'esperienza con Valerio la prossima volta solo io ospite del suo canale Valerio di che cosa parleremo? beh mi sembra evidente che se riusciamo a mischiare i nostri due background con quello che è il cinema e la musica e poi diamo uno sguardo a quello che sto facendo io adesso con più continuità che è quello del calcio e dell'analisi calcistica mi viene in mente che sarebbe interessante vedere l'impatto del calcio sul cinema e viceversa e quindi ci sono film insomma che ci ricordiamo che dobbiamo analizzare ne parleremo poi penso ne parleremo come dici tu da New York Valerio Fluido è tutto un grande abbraccio e grazie di essere stato con noi grazie a te grazie a te